Entra Schurle e Schurle segna. Entra Dembaba e Dembaba segna. Questo si chiama? Culo. Abbiamo avuto questa piccola fortuna che tu hai bisogno per vincere queste partite. Questo è logico. Se becchi il Real è l'ultima? Se becca, becca. Che possiamo fare? Se becca, becca. Andiamo. Che possiamo fare? Disfruttare. Ho detto ai giocatori, enjoy. Giocatori che l'anno scorso in questo momento giocavano contro Rubin Casano in Europa League. Giocatori che l'anno scorso in questo momento avevano 25 punti meno. Il Manchester United. Adesso sono in semifinale di Champions. Ancora possiamo avere una possibilità di essere lì lucendo per il campionato. Per questi giovani è un'esperienza fantastica e per gli altri. Ancora possiamo avere una possibilità di essere lì lucendo per il mercato. Grazie.